Ciao Juan, spiegacelo subito, come hai fatto a fare quella parata su Kwame? Raccontagela perché ha del paranormale, complimenti! Buono, grazie. Sì, la prima palla la riesco a toccare con la spalla, il braccio, non so, faccio a riascire e dopo lui la in testa, provo di togliere il piede, la palla passa e per fortuna avevo la mano dietro e l'ho riuscito a prendere. Per te con questa vittoria si chiude una splendida settimana perché è arrivata anche la grande soddisfazione del debutto nazionale, se ci racconti cosa hai provato in quel momento e poi anche quanto è importante aver portato a casa questi tre punti per la tua squadra. Sì, sì, ho avuto l'opportunità di giocare, che era importante nella prima convocazione perché è sempre difficile portiere di più e giocare minuti la prima volta, ma molto contento, anche abbiamo vinto e questa era una partita che sapevamo che per noi era un'altra finale, come ultimamente. Una squadra forte che veniva da vincere contro la Juve, motivati, quindi siamo stati bravi a capire che possiamo giocare, che possiamo delle volte fare un bel calcio e due o tre volte abbiamo fatto belli giocati che hanno finito in gol.